La giunta Ghinelli come espressione di un immobilismo che continuerebbe ad avvolgere Rezzo con la collaborazione anche di pezzi di quella che dovrebbe essere l'opposizione. E' questa la cruda realtà disegnata dall'onorevole Maurizio Bianconi, eletto in Parlamento tra le fila di Forza Italia, oggi passato nel gruppo misto tra i conservatori riformisti, un ritratto che non lascia spazio a grande ottimismo per il futuro della città. La giunta Ghinelli è la giunta del Vescovo Fontana, è la giunta di Cercarelli, è la giunta forse del mio amico Peppe Farfani, è la giunta di Ghinelli, è la giunta di troppa gente, la lancia d'oro dal Papa, lo sai come ho scritto, ho visto che la sezione Rezzo in Paradiso si sono scandalizzati tutti, a Cani ciò ne è fesso, come sta sta operazione si è capito tutti, non c'è una giunta di destra, qui c'è un comitato d'affari che lavora come con la giunta di Lugherini, c'è un altro comitato d'affari che lavorava. Quindi non è cambiato niente. È sempre la solita gente. Può cambiare un nome, due nomi, ma è questo immobilismo, è questa tensione paesana che crea una classe di gente immobile che ha portato al degrado che ha portato. Ma ti pare possibile che siamo tutti grandi, vaccinati, toscani, che un sindaco di centrodestra venga indicato da tutti i sindaci di centrosinistra della Toscana, meridionale, presidente del comparto dei rifiuti? Cioè, viene da ridere. Il che vuol dire che è della banda, sono Fede e Risarca tutti in abarca. Cioè questo non ha precedenti nel mondo, se non c'era un accordo prima. Quindi c'è di mezzo ovviamente anche il PD. Il grosso pezzo del PD, che sicuramente è quel PD che non ha digerito il razzismo di ritorno, perché poi lì c'è tutte le guerre civili interne, ma sicuramente la giunta non è di centrodestra, sicuramente ci sono interessi. Ma non dico illegali, quando io dico gli interessi, non dico che c'è gente a rubare, gli dico che c'è gente che antepone questi interessi complessivi, ritenendo magari di fare l'interesse della città, l'interesse della città. Lo voglio un esempio. Quando io dieci anni fa dicevo che il centro affari andava costruito sulla lebole, perché la lebole sarebbe rimasto rudere, e che mi hanno tutti sputato nel muso, schifato, e se avevano fatto come avevo detto io, oggi ci sarebbe tutta quella bella zona libera, e di qua c'aveva un bel centro affari, ma siccome ci si guadagnava una volta sola invece che due, e non è stato fatto.